Un saluto a tutti e a tutti dalla base operativa di Radio Sherwood. Mi trovo qui con Marco e René di Alle DNA, una band italiana nata recentemente, possiamo dire, che però accoglie musicisti che vissero già in parte uniti assieme il panorama underground padovano degli anni 90. Innanzitutto, come state? Tutto bene. Bene, bene, molto bene, grazie. Perfetto. Allora, a testimonianza di quello che dicevo poco fa, giusto lo scorso febbraio è uscito il vostro nuovo album, il terzo, che si chiama Serpente in testa, che a mio avviso riflette a pieno il vostro spirito e anche il vostro slancio artistico, che io trovo stia tra l'immediatezza e la verità, diciamo, dei vostri suoni, delle vostre composizioni, che sono giunte a uno stato di maturità, perlomeno se non artistica, sicuramente umana e di gruppo. E anche la, diciamo, tra questo e la consapevolezza che nel concepire nuovi brani, nuovi album, l'unica cosa che vi guidi e che seguite ogni volta è il vostro istinto, che vi ha portato infatti a concepire, a creare un nuovo album, il primo, che è interamente in italiano. Come sta venendo recepito da voi e anche dai vostri pubblici questo nuovo stato delle cose? Allora, è vero quello che hai detto, è il primo disco in italiano, però più o meno le coordinate espressive sono sempre le stesse, sono quelle che abbiamo fatto sia nel primo che nel secondo che nel terzo. Anche nel primo e anche nel secondo c'erano episodi in italiano. E a parte questa caratteristica, insomma, il disco è più o meno in stile su quello che facciamo. Non lo sento un disco della maturità, lo sento il solito disco con il solito percorso che ci ha portato a inciderlo e a fissare un momento. Diciamo che essendo il terzo in cui collaboriamo tutti insieme, rispetto agli altri ci sono un po' più di varie personalità che hanno intervenuto e quindi tutti quanti hanno dato qualcosina in più. E comunque mi sembra che si stia comportando bene, anche dal vivo, anche in giro, quindi che si è recepito abbastanza bene. Perfetto, vi ringrazio. Un motivo che mi ha saltato in testa ascoltando questo album, un po' come il serpente della copertina, è che mentre ascoltavo appunto l'album ho notato la rilevanza che all'interno dei testi sembra abbiate riservato al concetto della storia intesa con la S maiuscola che secondo me è stata ripresa a più livelli, dal ricordo alla ciclicità e alla ripetizione degli eventi anche al vostro non riconoscervi in qualche maniera in quella attuale e a sentirvi fuori dal tempo, fuori di essa e aprendo anche in ultima a una possibile, seppur dubbiosa, appunto risvolto di catarsi nel brano cambierà. Volevo chiedervi, la necessità di concentrarsi e valutare appunto la storia è nata in voi anche a partire da i conflitti bellici che si stanno verificando in questi giorni, diciamo, a livello mondiale o riguarda più un sentimento ampio, generale o privato e intimo? Allora, visto che il disco è uscito a febbraio e comunque ha una genesi che ha un percorso un pelino più lungo non è riferito all'attualità e tendenzialmente non è che ci concentriamo molto su delle parti di testo che hanno a che fare con l'attualità, è sempre il nostro modo di stare e di vedere le cose magari può trasparire qualcosa che hai detto. È un'analisi molto profonda, ti ringrazio però abbiamo un approccio un pelino più da slogan e immediato per quel che riguarda proprio le caratteristiche dei testi, insomma, li consideriamo sempre comunque un tutt'uno con la musica non è che siamo degli scrittori che musicano delle cose scritte, è il nostro modo di esprimerci sono più degli slogan che delle storie, quindi questo mi viene da dirti dopo non so se René vuole aggiungere qualcosa Io principalmente vorrei dire che i testi dal mio punto di vista mi sembrava anche un po' quando li scrivo a mamma perché è una cosa che, è un'esperienza che per me è stata un po' nuova nel senso che nei gruppi in cui avevo militato precedentemente generalmente i testi, principalmente li scrivevo io ho scritto abbastanza in italiano, quindi per me non è la prima esperienza dello scritto in italiano però in questa band lo scrivere i testi viene molto condiviso, viene molto discusso quindi anche molte parole vengono ricercate in qualche modo per dare un senso specifico a quello che stiamo dicendo, anche se magari, come dice lui, cerchiamo più degli slogan più delle cose dirette, quindi un testo diciamo più cantautoriale e invece un'altra cosa è che secondo me molto spesso guardiamo invece a noi, alla provincia alla quale molto spesso, con la quale molto spesso ci frequentiamo la vita che viviamo giornalmente questa cosa qua volevo specificare un po' secondo me certo, mi collego subito a quest'ultima parte perché appunto, e in parte ne avevate già discusso nella nostra trasmissione radiofonica Dischi del Momento in cui vi eravate definiti maturi a proposito del vostro far parte di una giovane etichetta locale, padovana appunto come quella di Dischi Sotterrani volevo chiedervi, cosa date e cosa vi viene restituito invece da uno spazio del genere che mette a contatto e comprende al suo interno appunto musiciste e musicisti provenienti da disparate esperienze musicali ma anche biografiche, anagrafiche allora, intanto è vero, cioè noi veniamo fuori da abbiamo dei trascorsi storici e quindi maturi lo intendevamo più come vecchi e abbiamo sempre creduto in una cosa che la musica non ha a che fare solo col singolo gruppo ma ha a che fare anche con contesti e attitudini come abbiamo sentito anche prima i ragazzi dei sotterranei ci tengono molto a questo per noi, cioè, in qualche modo è stata una continuazione con l'attitudine che avevamo e l'abbiamo riscoperta con i ragazzi dei sotterranei anche perché di base cioè creare aggregazione tra chi cerca comunque di far qualcosa è molto importante soprattutto anche a livello locale è importante perché tutte le realtà con cui noi storicamente abbiamo fatto a che fare avevano a che fare con Padova, la provincia quindi per noi è stato abbastanza naturale avere a che fare con una situazione del genere quello che riceviamo è un'attitudine magari più giovanile rispetto a quella che avremo noi e quindi magari più che fa più surf sulle cose mentre noi facciamo un po' più fatica a surfare le cose a star dietro ai contorni preferiamo star dietro un pelino più alla sostanza però quando si fa qualcosa il mondo è abbastanza ampio a cui star dietro e quindi dai ragazzi riceviamo un po' quell'aspetto lì e speriamo noi di dare un po' un valore aggiunto alle cose che fanno insomma certo, io lo trovo molto interessante questa convivenza appunto varia e a proposito ancora torno in ultima con una reference diciamo al vostro album perché ho amato molto la volontà diciamo l'essere non coerente di Madame Serpente e pensate sia questa una possibile postura per affrontare e sopravvivere all'interno del moderno panorama musicale italiano e non solo che segue e in qualche modo sembra essere comandato e piegato agli algoritmi di Spotify alle sponsorizzazioni ai post da creare sui social e anche a pratiche censori o affini a cui artisti e artisti vengono sottoposte allora non so cosa risponderti perché di fronte a queste cose qua come ti ho detto la nostra attitudine rimane quella di fare un po' quello che vogliamo e pagarne le conseguenze di questa cosa qua e quindi non confrontarci con determinate cose poi ha citato Madame Serpente che non so se è una canzone che per noi voleva esprimere questa cosa anzi c'è un po' di tutto dentro Madame Serpente c'è per quel che ci riguarda insomma quindi non so bene cosa dirti se non che affrontiamo le scelte al di là di noi in modo un po' superficiale se vuoi non neanche combattivo ma cioè ci concentriamo principalmente su quello che vogliamo fare e con tutte le conseguenze di questo insomma dopo non lo so Dio tutte queste considerazioni effettivamente ci prendono anche un po' la sprovvista in contropiede perché sono così ci fa molto piacere che invece ci sia questo pensiero che ci sia voglia di guardare al di là magari di quelle che sono la crosta ecco questo ci fa molto piacere e ci sorprende anche giusto bene allora io vi ringrazio per il vostro tempo e la vostra presenza qui in radio e ci vediamo dopo al concerto tra poco a dopo ciao a tutti grazie ancora ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti